il primo secondo Sì, però diciamo che lo ha visto una storia. È già così, no? S'hanno diminuito il ritmo. No, 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 ha diminuito il ritmo. S'ha andato piano. Anche Beppe sono con calo. Ma ho comunque piano. Quello, mi fai paura. Mi ricordate che questa fiscina è quella che mi non è più. Anche con... Ma mi temi un passo? Vado la fine? Oh! Che merda, che merda! Con calma, con calma. Un canicolo. Ma dove stiamo? Sì, bravolo. Oh, no, 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 no. Non, ma dove stanno сniere! Grazie. 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 l'ultimo giro l'ho rinunito. Quando volava come Giappa alla fine, come Giappino, come Giappino, perché si impara dei signori. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.